Forza Lazio! In attesa di capire quali saranno gli sviluppi, ripercorriamo le sessioni di mercato dell'era Lotito, caratterizzate sempre da una serie di atti e bassi. Impossibile non partire dall'estate del 2004, quando un neopresidente biancoceleste, dopo aver riportato a casa il figlio prodotto di Coparo di Cagno, vese i nuovi giocatori nel giro di una notte. Tra questi anche qualche nome importante, come quello di Tommaso Rocchi, punta di diamante dell'attacco biancoceleste per gli anni a venire. Fu proprio grazie ad un suo gol contro la Dinomo Bucharest che la Lazio, nell'agosto del 2008, si aggiudicò al passaggio al girone di Champions League. E fu proprio in quell'estate che si consumò nella sessione di calciomercato più contestata dal presidente Lotito. Ci aspettavano un colpo da Champions League dopo gli arrivi di Musdera e Kolarov. Alla fine arrivò il solo Vignaroli, appena svincolato dal Bari e preso a parametro zero. Per trovare un acquisto capace di infuogare gli animi dei tifosi biancocelesti bisogna arrivare all'estate del 2008, quando dall'Alzada arrivò Mauro Zarate, un folletto argentino sconosciuto ai più, ma capace di far innamorare tutti nel giro di boche giocate. Doppietta l'esordio contro il Cagliari e fu subito colpo di fulmine. Come quello che colpì i tifosi laziali all'arrivo di Dibril-Sissé. Attiso a fiumicino da una folla biancoceleste che già fantasticava sulle protezze che le francese avrebbe potuto compiere in tandem con Miroslav Klose. Arrivato a biancoceleste solo qualche settimana prima. Fu forse quella del 2011 la migliore esistione di mercato dell'era Lotito, che insieme ad attaccanti acquistò all'Ulic con Coe e Marchetti. È passato ormai qualche anno. Ora i tifosi biancocelesti hanno ancora 48 ore a disposizione per sognare un colpo che possa infuogare di nuovo la piazza. Arrivato a biancoceleste solo qualche anno.